Numerose adesioni ma soprattutto l'avvicinamento e la curiosità di tanti che non avevano mai praticato le discipline e si sono cimentati anche grazie agli Open Day. Va in archivio così a Mare Bari, una settimana organizzata dal Comitato Dipartimento Sport Bari e dal Comune del Capoluogo con il patrocinio del CONI e Sport e Salute. Sette giorni per promuovere lo sport in acqua sul territorio con la collaborazione di federazioni e associazioni di categoria. Ad ospitarla il lungomare del Capoluogo, le strutture del Circo, la Conotiri Barion, del Cusbari e della spiaggia comunale di Pane e Pomodoro. Lì si sono cimentati istruttori ma pure amatori e semplici curiosi dal paddleboard all'aquatlon passando per dragon boat, canoa, canottaggio, vela e kitesurf. Soltanto a citarne alcuni e senza dimenticare il sociale dal momento che è stata data la possibilità anche ai ragazzi meno fortunati di cimentarsi di intesa con l'asfa che aiuta i più piccoli con problematiche legate ai disturbi autistici. E poi l'attività di sensibilizzazione attraverso il dragon boat caratterizzato dal movimento aerobico della pagaiata che favorisce l'infodrenaggio degli arti superiori utile, spiegano gli esperti, alle donne che hanno attraversato le cure oncologiche. Questa edizione è andata benissimo, abbiamo avuto un buon riscontro, tanti ragazzi si sono iscritti, tanti ragazzi anche che hanno visto le nostre attività in giro per Bari hanno voluto provare anche perché erano delle prove gratuite e promozioni di tutti quelli che erano gli sport acquatici.